La città vive nuove emozioni. Con la nuova Hyundai i10, l'ispirazione diventa realtà. Fatti ispirare dal nuovo design, dai 5 posti comodi, dai consumi ridotti. Tu ha 8.950 euro con 5 porte, clima e SP. E con Hyundai iClass, tu ha da 95 euro al mese, tan 599, taigot 56. E dopo 3 anni puoi tenerla, restituirla o sostituirla. Nuova Hyundai i10, inspiration, engineered. Scoprila anche sabato e domenica da... Vi aspettiamo dal gruppo Resica. A Spinetta Marengo, sulla strada statale 10, angolo via Clemente.